Come si dice in questi casi, ma poi ci sono ancora tante partite, eccetera, eccetera. Ma non so, però comunque il campagna è lungo, ci saranno altre 15 partite, non sbaglio, quindi tante punte di esposizione, è normale che il risultato di positivo, non potrebbe aiutarci a rimanere a stessa distanza, però comunque il campagna è lungo. C'è il rischio che si dica l'importante è non perdere questa partita. Ma io penso che quando una squadra vuole far, me la debba entrare in campo sempre per vincere, quindi non penso che faremo questi errori, poi è normale che bisognerà vedere anche come saranno le quali pensi della partita, però uno c'è nel campo sempre per percorrere i punti. Allora, si va verso 1250.